Luca Lignola condelega il bilancio e servizi finanziari, Michele Di Gregorio condelega l'ambiente, qualità della vita, igiene urbana, verde pubblico, decoro urbano, rapporti con l'AMIUSPA. Sono i due nuovi assessori comunali presentati questa mattina dal sindaco di Trani Amedeo Bottaro che ha deciso di non tenere più per sé la delega l'ambiente, nominando Di Gregorio, e di affidare quale è importante al bilancio a Lignola perché non è possibile amministrare una città senza una persona delegata fare i conti. La giunta finalmente torna ad essere composta da sette assessori, ha spiegato Bottaro. Ritorniamo a sette e questa era la cosa a cui tenevo di più, anche perché soprattutto dovevo coprire un assessorato che per me è strategico e fondamentale, quello del bilancio, e poi finalmente nominarmi l'assessore all'ambiente, l'avevo già detto, era assolutamente una necessità che già avevo manifestato nell'ultimo mese, e quindi è la cosa più importante. È evidente che ora tempi per me per completare la giunta non sono più così urgenti, nel senso che sicuramente sto valutando, inutile dirlo, anche una diversa ripartizione delle deleghe tra gli stessi assessori già nominati, e eventualmente anche un completamento della stessa giunta, ma non è assolutamente quella adesso una priorità, la priorità era assolutamente quello di finalmente nominare l'assessore all'ambiente e certamente procedere alla immediata sostituzione dell'assessore al bilancio. C'è tantissimo lavoro da fare, soprattutto per i due nuovi assessori, le deleghe all'ambiente e al bilancio sono le più delicate. Sono i due assessorati per assurdo i più importanti, quindi sto facendo una bella assunzione di responsabilità ad entrambi gli assessori, sia per i problemi finanziari che certamente non sono superati perché non potevano essere certo superati in pochi mesi. Vi ricordo che eravamo sul loro dissesto finanziario, questo significa che certamente in pochi mesi non possiamo aver risolto tutto. Le questioni ambientali sono le questioni all'ordine del giorno e mi preme in questo evidenziare non semplicemente il problema della discarica, ma anche un progetto ambizioso che deve essere portato avanti, anzi bisogna portarlo a compimento il più presto possibile, che è quello della raccolta differenziata porta a porta. Spero di riuscire a ricoprire nel migliore dei modi questo importante ruolo e di non deludere la diffiducia che il sindaco Bottaro ha riposto in me, ha spiegato l'assessore Lignola. I problemi sono grossi e si possono risolvere solo in maniera collegiale, cioè attraverso un apporto di tutti, di tutti significa prima di tutto dell'aggiunta, ma poi anche dei consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Il mio impegno sarà massimo, ho già detto ieri, sono aperto a tutti, cerco anche soluzioni perché non le ho in tasca, ma condividendole forse riusciremo a trovare un percorso che permetterà alla città di fare qualche passo in avanti. I problemi che riguardano l'ambiente sono tantissimi, tra le priorità c'è sicuramente la questione di scarica, ma non solo, c'è il progetto che riguarda la raccolta differenziata che andrebbe immediatamente realizzato. La gente si aspetta risposta in questo momento sull'affrontare il problema di scarica, è una cosa che bisogna, come dire, io ho sempre detto, bisognava risolvere non ieri, ma l'altro ieri. Il sindaco ha già avviato insieme all'amministrazione dell'AMIU e con il conforto dell'assessorato regionale, che è fortunatamente della nostra città, un percorso, quel percorso dobbiamo portarlo avanti, chiaramente ma non è solo quello. Ci sono altre questioni che mi premono tanto, la bagnabilità è la cosa importante, la gestione dei rifiuti porta a porta, l'accessibilità del mare, l'inquinamento elettromagnetico, un minimo di arieto urbano, questa città non ha più, come dire, da anni non si piantano più alberi. A margine della conferenza stampa, il sindaco Bottaro ha parlato del nuovo amministratore delegato di AMET che sarà presto presentato. Si tratta di Marcello Danisi, una persona capace e competente, ha spiegato Bottaro, la quinomina è fiduciaria, non ha padrini. Rappresenta un cambio assoluto rispetto al passato perché non è il frutto di logiche spartitorie della politica. Abbiamo pensato di rilanciare AMET con la nomina di figure nuove, di qui la scelta di Marcello Danisi.